Seconda fase per Giulia Martini in Gomarchè, Lorenzo Massetti e Taylor May dalle numero 99, anche questo è un percorso fuori classifica. Seconda fase per Giulia Martini in Gomarchè, Lorenzo Massetti e Taylor May dalle numero 99, anche questo è un percorso fuori. Superamento delle tempo massimo nella prima fase, una penalità per Lorenzo Massetti. Grazie! Grazie!